Salve, sono Luigi Gratton, vicepresidente di Education and Upper Life. Benvenuti a InMix. Innanzitutto, bentornati dalle vacanze e buon anno. Spero che vi siate diventiti con la vostra famiglia e che abbiate avuto tutto quello che volete. Io ho tenuto il peso a bada nonostante quello che ho mangiato. Molti hanno dei buoni propositi, per esempio dimagrire, essere più sani. E questo inizia con il prodotto principale della società, la Formula 1. 27 anni fa Herbalife ha lanciato questo prodotto, la Formula 1, e negli anni chi ha fatto di Formula 1 una parte della propria routine ha visto i risultati incredibili. Ma questo non è stato abbastanza per la nostra divisione scientifica, di cui faccio parte anch'io, che vogliono il meglio per i nostri prodotti e per voi. Quindi negli ultimi anni abbiamo messo la Formula 1 sotto il microscopio, fatto dei test per fare in modo che non mancasse nulla. E i risultati sono stati fenomenali. Eccoci qui, 27 anni dopo, a provare in maniera scientifica esattamente quello che avevamo già visto. Ho visto un alto contenuto di minerali, vitamine e proteine come prodotto per il controllo del peso e non posso pensare a nulla di meglio della Formula 1. Quindi il modo migliore per iniziare la giornata è con una prima colazione sana e la Formula 1 è il modo migliore. Sono Luigi Graton, vicepresidente di Education. Buona salute. Grazie.